Previste novità per quanto concerne i servizi cimiteriali nella città di Chieti, Assessore di Felice è così? Sì, ci troviamo in una situazione emergenziale e quindi prima che succedano dei problemi vogliamo fare in modo che siamo certi che nessun problema possa avere la cittadinanza. E' chiaro che il provvedimento che andiamo a attuare sembra pesante, però è garanzia per tutti quelli che adesso hanno i loculi e che non perderanno nessun diritto ma dovranno a seguito dell'approvazione in giunta della determina rilasciare per qualche tempo se è necessario i loculi che andremo a richiedere. Per quanto riguarda invece la situazione di Chieti Scalo ci saranno delle novità? Sul Chieti Scalo dovrebbe partire ormai in modo imminente l'inizio dei lavori, è quello che ci condiziona, nel senso che se il cimitero di Chieti Scalo fosse partito nelle tempistiche previste nell'appalto e fosse già in corso di attuazione la problematica dell'emergenza non ci sarebbe. Il problema è questo che come assessore ho premuto al dirigente affinché accelerasse le spinte per poter far avviare i lavori, c'è stata la consegna dei lavori all'impresa che deve eseguire gli stessi, però non c'è ancora l'avvio. Io ho chiesto con forza affinché questa cosa avvenga. È chiaro che in questo momento la situazione è critica perché abbiamo solo 8 loculi a disposizione, 8 è un numero minimale. Tenete conto che sui Chieti muoiono complessivamente sui 550 persone all'anno, di queste fortunatamente l'85% è provvisto già di loculi personali o di cappelle o di tombe a terra, però il 15% rimanente che sono sugli 80-85 persone devono essere per forza tumulate perché la legge prevede, quindi dobbiamo assolutamente garantire questo servizio. Grazie a tutti.